un tempo neanche tanto lontano erano due strutture in mano ai più forti o per meglio dire a chi si sentiva tale ben presto avranno una nuova vita una bellissima vita siamo in pienissima zona 167 da anni in sofferenza e in cerca di luce propria ed è proprio qui che sta per accadere qualcosa da prima pagina in via muciaccia allora ci sarà un modulo di residenzialità temporanea in favore di 4 massimo 6 soggetti con disabilità non motorie e con sufficienti capacità cognitive al fine di accrescere livelli di autonomia e di autosufficienza in via togliatti invece si ergerà un bed and breakfast con l'annesso centro di supporto per le famiglie più fragili su via muciaccia c'è un immobile che sarà dedicato a una comunità di ragazzi che vivranno un'opportunità di progetto di vita indipendente in via togliatti dove ci troviamo in questo momento il bene sarà un bnb sociale all'interno del progetto proviamoci insieme che è un modo di vivere come dire l'inclusione lavorativa attraverso la progettualità di rifunzionalizzazione di un bene confiscato gli attori principali dunque saranno loro i soggetti più deboli ma vogliosi di far capire quanto siano grandi io mi auguro solo che questa opera questo appartamento venga costruita più presto possibile perché questi ragazzi hanno bisogno di distaccarsi un po dai genitori per noi questa opportunità è un'esperienza per essere autonomi aiutare l'altro insomma non essere essere diciamo dipendenti la primavera di tutto è nel 2015 quando il comune assegna alla rete area di stabilità road capofila però è l'anatroccolo i due immobili in questione mancano i soldi però per metterli a posto e nel 2018 si bussa alle porte del viminale per reperirli il disco verde è arrivato l'anno scorso e con un assegno di quasi 600 mila euro tutto è pronto adesso per passare dal sogno alla realtà ma l'ultimo ostacolo si chiama covid 19 i lavori erano previsti nel mese di febbraio purtroppo per via del covid abbiamo rallentato quindi non si è fatto più nulla è difficile per il momento avere o dare delle previsioni in merito